Il sold out al Viviani di potenza per la sfida più attesa della prima giornata del girone di ritorno. Il vuoto sugli spalti sicuramente tra Pomigliano e Gravina, si gioca sul neutro di Volla e probabilmente anche ad Aversa dove sarà di scena il Taranto. Il campionato di Serie D presenta le due facce della stessa medaglia per la prossima domenica. Si rialza il sipario con l'inizio del girone di ritorno e sarà subito spareggio per il primato a potenza. La squadra di Nicola Ragno attende l'HVS, seconda forza del girone, in un Viviani che inevitabilmente sarà colmo di tifosi. Anche quelli provenienti dalla Campania di fatto hanno polverizzato i tagliandi messi a loro disposizione mentre sul sold out dei tifosi di casa non c'erano dubbi già dalle scorse settimane. Il contraltare di quello che si annuncia uno spettacolo sugli spalti e molto potrebbe dire sul futuro del campionato arriva invece dalla Campania. Il Gravina sale a Volla per sfidare in campo neutro e senza pubblico il Pomigliano. Il Taranto prepara la trasferta di Aversa con la prospettiva di giocare anche in questo caso a porte chiuse. Non avranno problemi invece i tifosi di Cerignola e Altamura. Sono attesi numerosi nella prima del nuovo anno, convinti che quella di domenica sarà l'occasione giusta per tornare ad assaporare la vittoria. E' mancata ai giallobluo Fantini nell'ultimo turno del 2017 contro il Picerno. Non dovrebbe sfuggire tra tre giorni contro lo Sporting Fulgor, ultima della classe senza una guida tecnica ma attiva sul mercato di riparazione con il tesseramento dell'esterno Nitti prelevato dal Sansevero. Deve lasciarsi alle spalle una sconfitta invece l'Altamura e la sfida contro il Gragnano appare agevole per compiere questa operazione necessaria non solo per il morale ma soprattutto per le vicende di classifica. Vicende che cominciano a farsi intriganti anche nella corsa salvezza. Manca tutto il girone di ritorno ma alcune gare hanno già le caratteristiche di veri e propri spareggi. Così la Turris, avversario del Manfredonia, propone prezzi popolari per la sfida di domenica perché serve il sostegno del pubblico, quello che sarà protagonista a potenza ma mancherà nelle gare del Gravina e del Taranto.